domenica 25 giugno alle ore 16 al trap con caverde di nonato del garda viene a vedere sparando con le stelle 2017 si sfideranno tanti campioni del tiro a volo tra i grandi piattellisti plurimedagliati ci saranno jessica rossi johnny pelliello massimo fabbrizi e tanti altri personaggi come l'ex campione del mondo di bike trial nonché detentore di 10 guinness world record e anche inviato di striscia la notizia vittorio brumotti michele frangilli medaglia d'oro nella gara squadre di tiro con l'arco e il cacciatore alessandro altobelli detto spillo e tanti altri sportivi di eccezione tutte persone che parteciperanno per la più nobile delle cause lo studio e la cura dei tumori ovviamente ci sarò anch'io e vi farò vedere con quale destrezza abbatto i piattelli mi raccomando non mancate perché questo è un aiuto molto importante per la lotta contro il cancro chiaro l'appuntamento ve lo ricordo è il 25 giugno alle ore 16 al trap con caverde di pilonato del garda sparando con le stelle vi aspetto numerosi mi freaky freaky yeah mi freaky freaky yeah mi freaky freaky yeah da rollo